Il prefetto di Teramo, Graziella Patrizia, ha convocato tutti i sindaci, le forze e l'ordine della provincia e la ASL per fare il punto della situazione sulla delicata questione del coronavirus. Un incontro fatto anche per cercare di contrastare la psicosi che corre veloce anche lungo il nostro territorio. Il presidente della provincia di Buonaventura alla fine dell'incontro ha voluto rimarcare che le misure di sicurezza per fronteggiare l'eventuale arrivo dell'infezione da Covid-19 sono attive e sono pronte. C'è un dato, e questo lo dobbiamo dire chiaro, che attualmente nella nostra provincia non c'è nessun contagio e non c'è nessuna pandemia. Bisogna stare calmi, bisogna stare con qualche accorgimento, ma dobbiamo continuare a vivere. Noi non dobbiamo vivere nel panico perché attualmente la situazione è sotto controllo e dimostra che la nostra sanità pubblica funziona, forse meglio delle altre nazioni. Ecco, io l'ho detto, attualmente dobbiamo solamente aspettare che non è un problema di un comune della provincia di Teramo o della provincia di Teramo. C'è un'emergenza nazionale, tant'è che i contagi sono partiti tutti in un'altra zona. Ecco, bisogna fare attenzione, ma l'ho detto anche che un fatto strano, sempre con quasi i contagi, noi abbiamo scalato le posizioni, siamo il terzo paese con più contagi. Perché c'è un atteggiamento diverso dell'Italia. Siamo noi che abbiamo fatto più tamponi dagli altri stati, tant'è che la Francia ne ha fatti appena 300, noi siamo già sopra ai 3.000. E giustamente, ecco, con un calcolo statistico noi troviamo più contagiati. Ma attualmente, ecco, la situazione è sotto controllo e perciò, lo dico qui, lo dico con i miei colleghi sindaci, che non c'è nessun motivo di chiusura della scuola. Ecco, noi dobbiamo solamente aspettare quando la direzione sanitaria regionale e provinciale ci dice che c'è un'emergenza sanitaria o epidemiologica, noi dobbiamo attivare tutte le misure del caso, che sono anche quelle di fare ordinanze. Ok, perciò attualmente dobbiamo mantenere la calma e dobbiamo continuare ad andare avanti, perché se no qui saremo noi ad uccidere le nostre comunità.